Nessuno può accedere all'interno dall'edificio di via Quarto de Mille che ospita i locali della scuola di formazione Euroforum, il cui solaio nella parte centrale è venuto giù di schianto durante il temporale di ieri pomeriggio. L'edificio è stato sequestrato dai Vigili del Fuoco che dopo i controlli hanno stabilito che la costruzione ha problemi strutturali. Per lo stesso motivo una parte di via Quarto de Mille è stata chiusa al transito. Sino a pochi anni fa gli scantinati dell'edificio di proprietà della congregazione dei padri bocconisti ospitavano anche uno dei più numerosi gruppi scout di Palermo frequentato ogni giorno da decine di ragazzi. Abbiamo sentito scricchioli e siamo fuggiti hanno raccontato gli addetti alla segreteria della scuola. Abbiamo avuto soltanto il tempo di far uscire tutti poi il solaio è crollato. All'ultimo piano quello interessato dal crollo ha sede un altro ente l'ISPE. I titolari della scuola di formazione hanno detto agli agenti della polizia municipale che da tempo avevano segnalato la condizione di pericolo. Quando pioveva ad esempio l'acqua entrava dal tetto. Le segnalazioni erano state fatte all'amministrazione comunale e soprattutto ai proprietari dell'immobile, i padri bocconisti. Chiediamo adesso un incontro urgente con il sindaco e il prefetto affinché i nostri alunni abbiano nell'immediato una nuova struttura per proseguire la normale attività scolastica, scrive in una nota la direzione dell'Euroform. Decliniamo ogni responsabilità sui fatti, conclude questa nota, in quanto titolari di un regolare contratto di affitto in una struttura regolarmente agibile così come dichiarano i documenti in nostro possesso. Questa è stata una morte annunciata perché dal 2010 che comunico costantemente attraverso tutti i mezzi possibili legali alla proprietà che sono il boccone del povero, i quali sono rimasti sempre con questa miopia di intervento. Sicuramente è una situazione di grande disagio perché chiaramente abbiamo dovuto interrompere le nostre attività improvvisamente e non sappiamo onestamente dove continuare le attività, come agevolare anche il disagio dei genitori.